In Italia potrebbe arrivare nelle prossime ore Martin il fratello di Angelica Hütter, ma non i genitori con i quali la giovane lo scorso autunno avrebbe avuto un diverbio per motivi sconosciuti, forse originati dall'irruzione della polizia nell'abitazione della famiglia Deggendorf una settimana prima della partenza della 32enne. Lo si apprende dal blog di informazione tedesco Promiblogs che in un lungo articolo ricostruisce la vita della Hütter, studi, lavoro, successi sportivi fino alla tragedia del 6 luglio scorso a Santo Stefano di Cadore. Promiblogs riferisce che una settimana dopo l'irruzione della polizia la 32enne caricò l'auto intestata al padre, una valigia, un materasso e cibo in scatola, l'indispensabile per un viaggio nel sud dell'Europa interrotto bruscamente nel pomeriggio di quasi due settimane fa. Gli interrogativi sulle cause dell'incidente in via Udine nel quale sono morti il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, rispettivamente papà e nonna del bambino di nemmeno due anni, continuano a restare senza risposta. Angelica Hütter, indagata per omicidio stradale plurimo, si trova ancora ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, dove è sottoposta a terapia farmacologica. Ieri mattina, giorno fissato per l'interrogatorio di garanzia, la giovane si avvalsa della facoltà di non rispondere su indicazione del suo avvocato difensore Giuseppe Triolo del foro di Belluno, che ha riferito come fosse azzardato a pensare che la 32enne potesse essere nelle condizioni di sostenere un interrogatorio davanti alla GIP Marson e al PM Marcon. Peraltro le condizioni di impedimento non sono cessate, quindi per il momento Angelica Hütter, pur piantonata, non può rientrare nel carcere femminile della Giudecca. Le indagini proseguono a ritmo serrato e i carabinieri hanno acquisito almeno due video e testimonianze sul posto. Il PM Simone Marcon ha nominato l'ingegner Calzavara per una consulenza tecnica. Le famiglie potente Antoniello si sono affidate ai legali dello studio 3 a valore che ha incaricato lo specialista Mario Piacenti. Per gli esiti si dovrà attendere la fine dell'estate. Al momento gli unici punti fissati dagli accertamenti disposti dalla magistratura si riferiscono alla velocità elevata all'incirca 90 km orari e alle condizioni di Angelica Hütter che non si trovava sotto l'effetto di alcol o droga e che non stava usando il telefono cellulare né prima né al momento dell'impatto.